corrispondenza etretà venerdì la signora de x alla signora de z mia cara zia sto arrivando pian piano da voi il 2 settembre starò a fresnay alla vigilia dell'apertura della caccia a cui non ho nessuna intenzione di mancare per provocare un po quei signori voi siete troppo buona cara zia perché in quella giornata quando siete sola con loro consentite che vengano a pranzo senza essersi cambiati e rasati con il pretesto della stanchezza ecco perché sono tutti contenti quando io non ci sono ma io sarò presente li passerò in rivista come un generale all'ora di cena e se ne trovo anche solo uno non in ordine anche per uno nulla lo rispedisco in cucina con la servitù gli uomini d'oggedì hanno pochi riguardi cattive maniere occorre essere sempre severi con loro siamo proprio in pieno regno della cafonaggine quando litigano tra loro si provocano con parolazze degne di facchini e con noi signore si comportano assai peggio dei domestici bisogna vederli ai bagni di mare dove si intruppano a battaglioni e si possono valutare tutti insieme che gente maleducata figuratevi che in treno uno di loro un signore che a prima vista pareva molto per bene grazie al sarto si è allevato delicatamente gli stivaletti per infilare un paio di ciabatte un altro un vecchio che era forse un arricchito di recente sono i più rozzi ha posato delicatamente i piedi sul sedile accanto a me è consentito non c'è freno per la volgarità nelle stazioni termali c'è una cosa però che devo osservare il mio disgusto ha la sua origine probabilmente nel fatto che non sono abituata a frequentare spesso le persone che si possono incontrare se dovessi averle vicino più frequentemente ne sarei meno urtata nella hall dell'albergo un giovanotto mi ha quasi buttata a terra perché doveva prendere la sua chiave passando sopra la mia testa all'uscita di un ballo del casino un altro mi ha dato uno spintone così violento da farmi male al costato senza chiedere scusa e neanche toglierci il cappello sono fatti tutti così basta guardarli quando incontrano una signora sulla terrazza salutano appena sfiorando con la mano il cappello poi siccome sono quasi tutti calvi meglio così ma c'è una cosa che mi ferisce e mi irrita di più ed è la libertà che si prendono di parlare in pubblico delle avventure più schifose senza minimamente curarsi di attenuarle appena due uomini si trovano assieme si raccontano con linguaggio più triviale e con le più orrende considerazioni storie spaventose anche se c'è a portata della loro voce un orecchio di donna ieri sulla spiaggia sono stato obbligata a cambiare posto per non essere ancora l'involontaria ascoltatrice di una storiella lubrica raccontata in maniera tanto sconcia che mi sentivo umiliata e indignata per aver dovuto ascoltarla la più elementare regola di buona educazione non dovrebbe insegnare a parlare sottovoce di cose simili quando si è vicine a una donna e tra età poi è il paese dei pettigolezzi quando si va via da qualche posto diventa subito il raduno delle comari dalle cinque alle sette si vedono che vanno in giro per diffondere chiacchiere di gruppo in gruppo come mi dicevate voi, cara zia la maldicenza è la caratteristica della gente da nulla degli imbecilli ed è anche la consolazione di quelle donne che non sono più né amate né corteggiate ma è sufficiente osservare quelle che passano come le più lingue acciute per essere persuasa che non vi sbagliate l'altro giorno sono andata a un concerto del Casinò con un artista in signe, la signora Masson che canta in modo incantevole ho avuto anche modo di applaudire lo splendido attore Coquelin insieme con due attori della compagnia stabile del teatro del vaudeville M. e Meillet in queste occasioni ho avuto modo di vedere tutti i villeggianti che sono venuti quest'anno alla spiaggia di classe ce ne sono molto pochi il giorno dopo sono andata a mangiare a D-Port ho visto un signore barbuto che usciva da una casa che pareva un fortilizio era il pittore Jean Paul Lorrain è evidente che non gli basta murare i personaggi che li trae si vuole murare anche lui a un certo punto mi sono seduta sul greto accanto a un uomo ancora giovane mite e raffinato in apparenza che stava leggendo dei versi leggeva con tanta attenzione vorrei dire con tanta passione che non ha mai alzato lo sguardo su di me ci sono rimasta malissimo e ho chiesto al bagnino con aria indifferente chi fosse quel signore ridacchiavo dentro di me di un simile lettore di versi mi sembrava un po' in ritardo data l'età e il sesso un ingenuo pensavo invece in questo momento cara zia sono impazzita per il mio sconosciuto figurati che si chiama Salli Prudomma sono tornata a sedermi vicino a lui per osservarlo meglio il suo volto soprattutto ha un'impronta di serenità e di finezza un tizio è venuto a trovarlo e così ho potuto ascoltare la sua voce dolce quasi timida ecco uno che non grida frasi volgari in pubblico uno che non dà spintoni al signore e poi non chiede neanche scusa deve essere una persona delicata forse di morbosa sensibilità ma vibrante farò in modo di conoscerlo durante l'inverno non c'è altro zia carissima e vi lascio in fretta perché s'avvicina l'ora della posta vi bacio sulle mani e sulle guance la vostra affezionata nipote ho scritto devo fare una piccola aggiunta alla maleducazione dei francesi quando viaggiano i nostri compatrioti sono un modello di buone maniere paragonati agli spaventosi inglesi i quali sembrano aver ricevuto l'educazione dagli stallieri tanta cura mettono nell'essere strafottenti e nel dar fastidio continuamente ai loro vicini la signora de z alla signora de x la fresnè sabato piccola mia mi scrivi cose più che ragionevoli mai torto a suo tempo mi sono molto indignata al pari di te della cattiva educazione degli uomini che vedevo sempre in colpa nei loro rapporti con me ma invecchiando e riflettendo e perdendo la civetteria e giudicando spassionatamente mi sono accorta di questo se gli uomini non sono sempre compiti le donne da parte loro sono sempre d'una inqualificabile e grossolana maleducazione noi cara pensiamo che tutto ci sia consentito e nello stesso tempo che tutto ci sia dovuto per cui con la maggiore tranquillità facciamo cose mancanti della più elementare creanza proprio quella che ti appassiona tanto rispetto a noi gli uomini ci usano molti riguardi credo e poi tesoro mio gli uomini debbono essere e sono come noi li facciamo in una società in cui ogni donna fosse davvero una gran dama tutti gli uomini diventerebbero dei gentiluomini via guarda e rifletti immagina due donne che si incontrano per la strada che bel modo di fare che sguardi malevoli quanto disprezzo e quante smorfie mossette del capo dall'alto in basso per squadrare e condannare e se il marciapiede è stretto credi che una delle due cederà il passo chissà cuse e se il marciapiede è stretto credi che una delle due cederà il passo chiederà scusa mai quando due uomini si incontrano in una via stretta entrambi si tolgono il cappello e si ritraggono nello stesso momento mentre noi donne ci strusciamo pancia contro pancia naso con naso osservandoci con insolenza osserva due donne che si conoscono e che si incontrano in una scala davanti alla porta ad un'amica comune che sta andando a trovare mentre l'altra l'ha appena fatto di sicuro si mettono a chiacchierare ostruendo ogni passaggio sul pianerottolo se qualcuno sta salendo dietro di loro uomo o donna che sia credi che si sposteranno di un centimetro nemmeno per sogno l'inverno scorso ho atteso per 22 minuti orologio alla mano l'ingresso ad una mostra dietro di me aspettavano due signori i quali non parevano come me essere sul punto di diventare idrofobi da tempo erano abituati alle nostre incoscienti imprudenze l'altro giorno prima di partire da Parigi sono andata a colazione proprio insieme a tuo marito in un ristorante degli Champs-Élysées per godere un po' di fresco i tavoli erano tutti occupati il cameriere ci ha pregato di attendere ho veduto una vecchia dama dall'aspetto nobile che aveva già pagato il conto ed era sul punto di andar via si è accorta di me mi ha squadrato da capo a piedi e non si è mossa per più di un quarto d'ora è rimasta così senza muoversi mettendosi i guanti osservando gli altri tavoli guardando placidamente tutti quelli che stavano aspettando come me due giovanotti che stavano finendo di mangiare mi hanno notata hanno chiamato in fretta il cameriere per pagare il conto e mi hanno subito offerto il loro posto aspettando in piedi la consegna del resto e pensa cara che non sono più bella come te ma anziana e con i capelli bianchi siamo proprio noi che dovremmo imparare l'educazione e sarebbe una fatica tale che nemmeno Ercole ce la farebbe mi parli dei tretà e delle persone che spettegolano su quella bella spiaggia quello per me è un luogo dove non tornerò dimenticato anche se un tempo mi ci sono divertita assai eravamo in pochi gente della buona società della vera buona società e c'erano anche artisti stavamo tutti insieme a quei tempi nessuno faceva della maldicenza dato che non esisteva quel frivolo casinò dove si va per mettersi in mostra per chiacchierare per fare qualche stupido ballonzolo e per annoiarsi finché si vuole noi cercavamo la maniera di trascorrere in allegria le nostre serate sai cosa venne in mente a uno dei mariti di andare a ballare ogni sera in una fattoria dei dintorni andavamo in massa con uno sganetto di barberia che veniva suonato dal pittore con la solita scoppoletta sulla testa due uomini portavano le lanterne e noi dietro in processione allegri e spiritosi come matti svegliavamo il fattore le serve i garzoni ci facevamo fare persino la minestra con le cipolle che orrore e ballavamo sotto i meli al suono della fisarmonica i galli ridestati cantavano nei recessi delle fattorie i cavalli erano nervosi sullo strame della scuderia il vento fresco della campagna ci accarezzava le guance e ci portava un odore di erbe e di messi mietute quanto tempo è passato come tutto lontano sono volati via trent'anni non voglio cara che tu venga qui all'apertura della caccia perché sciupare l'allegria dei nostri amici costringendoli a mettersi in ghingheri proprio in una giornata di piaceri rustici e semplici i uomini diventano di cattivo umore proprio per queste cose bimba mia ti abbraccia la tua vecchia zia Genevieve de Z grazie a tutti